Buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Coda in A1 tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna a causa di un mezzo fermo in avaria. Segnalata pioggia in Fipili dal km 58-200 al km 81-500 tra il bivio Fipili di Lammazione per Pisa e Livorno in entrambe le direzioni. A causa del cerimento di un muro privato su via dei Carcheri alla Strassigna la strada è chiusa alla circolazione all'altezza della chiesa di San Martino. A Firenze partono lavori con disagio alla circolazione per l'asfaltatura in via Badia Ripoli, via Torcicoda e in via Lorella de Luca. Parte inoltre la nuova fase di riqualificazione di via Guelfa. Fino a venerdì 7 giugno lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria tra Bologna e Prato, variazioni e corse con bus per i treni intercity e regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!